Renato, grande attesa qui al Teatro Principe per questo tuo combattimento per un titolo italiano molto importante. Sì, è il mio ritorno ai superleggeri e combatteremo finalmente per il titolo dopo un anno di attività rientrata in categoria e ora di tornare agli alti livelli. Un teatro questo che ha fatto la storia del pugilato, che sensazioni dà a combattere su questo ring? Io lo conosco bene, anche se ho l'idea di combattere così a Milano centro, in un posto così storico, a me piace sempre tantissimo, ma lo stesso pubblico è contento di venire qui. Incontro facile, difficile, impegnativo, cosa ti aspetti da questo match? Il giorno che ho un incontro facile mi commuovo, non è mai facile, bisognerà vedere domani qui come si metterà la faccenda, io sono preparatissimo, quindi sono fiducioso. Motivato, preparato o carico a Milano? Alla grande, domani è roba mia lì. Invito al pubblico milanese per venirti a vedere? Venite a vedere, però è tutto esaurito, quindi seguitemi anche dalla TV su Rai Sport, è il 22.45, c'è la diretta, quindi la prossima volta comprate prima i biglietti perché finiscono il fretto ormai.